Ciao, sono la dottoressa Maura D'Antonio e oggi ti parlo di due ingredienti che possono aiutarti se stai seguendo una dieta dimagrante. I due ingredienti sono lo zenzero e il limone. Prendi due o tre pezzetti di zenzero, li metti in acqua che ha calda, le porti ad ebollizione, spegni l'acqua, una volta che l'acqua sta bollendo, lasci riposare per 15 minuti e filtri. Al tutto aggiungi il succo di un limone intero. In pratica questa bevanda, può essere bevuta sia calda che fredda, ha la proprietà di bruciare le calorie perché lo zenzero ha un effetto termogenico, quindi aumenta la temperatura corporea e permette di bruciare le calorie accumulate con il cibo. Il limone ha all'interno dei componenti che bruciano il grasso ed evitano che se ne formi di nuovo. Se pensi che questo video sia stato interessante, condividilo con i tuoi amici. Grazie!